Sì, sì, adesso mi è servito un po' di tempo, è stata una cosa abbastanza lunga, però adesso ogni giorno in più riesco comunque a acquisire minuti, inutaggio, sto meglio, anche le gambe mi sento proprio meglio, ci vediamo un po' di tempo, però adesso posso di sto bene. Ho passato tra virgolette un brutto periodo, purtroppo quando si sta fermi poi sai, si pensa magari anche agli errori fatti, vi dicendo, quindi tra virgolette anche negativi, voglio trovare una positività, io l'ho trovato, ho visto anche le cose che sbagliavo così e adesso comunque se comincio a star bene, magari comincio a fare qualche cosa ho fatto meglio, quindi sono contento. Ma sì, ma anche a Genova ho giocato in questo ruolo, quindi io credo che l'importante è uno come si applica, se uno ha voglia di imparare, vi dicendo, l'importante è che si applica, si sta attenti a ogni qualsiasi episodio della partita e poi credo che chiunque potrebbe fare questo ruolo di sviluppo, ogni passato l'ho fatto, quindi io sono a disposizione per dire che tante. Secondo me bisogna essere consapevoli della propria forza, lo siamo, e imparare dagli errori. secondo me è troppo facile cadere e combiangersi, vi dicendo, bisogna essere bravi a rialzarsi e credo che noi qua abbiamo tutte le qualità e la voglia per poterlo fare, perché comunque è un gruppo che ha voglia di lavorare, quindi credo che riusciremo ad alzarci. Siamo consapevoli che è un momento molto molto delicato, però ripeto, dobbiamo stringerci a lavorare bene, perché la cosa più importante è lavorare bene, perché il lavoro paga, ed è sempre stato così e credo che le cose poi andranno sicuramente molto meglio. Grazie.